C'è il gallo che canta nella nostra nuova sigla alle 7 del mattino, canta e sveglia la città, sveglia la regione per la rassegna stampa OcGiornali che come tutte le mattine dal lunedì al sabato è qui sul canale 17 per darvi tutte le notizie, le informazioni più importanti a nostro giudizio con le pagine selezionate dai due quotidiani Carlino e Corriere Adriatico. Cominciamo questa mattina come di consueto con il santo ed è una santa che a noi è molto cara perché è Santa Chiara e Santa Chiara è anche la patrona della televisione e quindi è a lei che affidiamo Fano TV e a lei a Santa Chiara che affidiamo tutti voi che ci seguite. L'alba è puntata alle 6 e 10 di questa mattina, tramonterà il sole alle 20 e 23 mentre per quanto riguarda il tempo vediamo le previsioni. Secondo il bollettino della protezione civile delle Marche per oggi avremo un cielo sereno poco nuvoloso con debole attività comuniforme nelle zone interne durante le ore più calde della giornata, temperature senza variazione di rilievo per domani cielo sereno poco nuvoloso con qualche addensamento comuniforme nelle zone montane durante le ore più calde della giornata ma non si escludono brevi ed isolati fenomeni pomeridiani nel settore montano della regione, sono i famosi temporali da caldo estivo. Mentre per la giornata di giovedì 13, 13 agosto avremo cielo sereno poco nuvoloso con temperature in lieve aumento. Tempo buono e stabile ancora quindi fino a giovedì, poi condizioni di stabilità pomeridiana nella giornata di venerdì, qui farà seguito probabilmente condizioni di tempo stabile soleggiate per tutto il prossimo fine settimana. E adesso andiamo a leggere i giornali, anzi no, andiamo a collegarci con Tom Il Bagnino perché ci aspetta sempre, buongiorno alle 7 del mattino, comincia il suo turno di lavoro alle 7 con noi, quindi è un momento ormai consolidato per quest'estate 2020. Allora siamo nella settimana di ferragosto, Tomi, che cosa ci dici? Buongiorno Marco, anche ieri è stata la prossima di mare, oggi si preannuncia con questa alba una giornata degna di questa settimana, condizioni metomarine favorevoli, siamo chi per questa settimana? Ok, tempo buono, grazie Tomi. Allora intanto noi ci vediamo domani mentre sulla prima pagina del resto del Carlino c'è la notizia che riguarda un evento che ieri c'è stato al mare in tutta, su 9 chilometri di battigia, di spiaggia, ovvero la notte delle candele, mascherine intermittenti, titola così il resto del Carlino questa mattina, nel senso che è andato bene Nì, non sempre infatti le regole sono state rispettate, Viale Trieste non sgarra, ma via via che ci si allontanava dal centro le regole si sono rispettate di meno, grande afflusso fino sulla panoramica, il sindaco comunque ricci soddisfatto, ha parlato di una festa unica al mondo. Per quanto riguarda invece il titolo d'apertura San Nicola, la fiera di Pesaro San Nicola dipende dai contagi, quindi ancora non si è deciso nulla, mentre quella di Fano San Bartolomeo, ieri vi abbiamo dato la notizia che si farà, la fiera di settembre dunque è confermata, 4 giorni ma con riserva, sicuramente ci saranno molte limitazioni. Lo sport svolta nel mercato, sorpresa Vuella, al ritiro si aggrega anche il play Ariel Filloi, mentre sul fronte calcistico Vis, la mezzala gelonese è ormai biancorossa, è stata presa dalla Samba. Al Codma di Fano invece Drive Point, parliamo di coronavirus, tamponi per 70 persone dopo i rientri dalla Croazia. Urbino, festa del Duco è più forte del virus, note per Raffaello, poi parla il liquidatore, parliamo di crisi economica, il brand Berloni ora è ricercato, spuntano cinesi e americani. Sotto invece in Piazza del Popolo arriva Oliver Stone, il celebre regista alla mostra del cinema Pesaro e poi anche il parroco schierato contro la variante. Tanti cittadini fanesi hanno detto no al completamento dell'interquartiere, parliamo della protesta che si è tenuta ieri pomeriggio nel quartiere Gimarra. Andiamo a vedere invece adesso il Corriere Adriatico, lo dovremmo andare a vedere subito, eccolo qua. Estate Covid, strage di eventi, saltano gli appuntamenti classici, niente notti bianche, tutti cancellano i fuochi d'artificio. Ad Ancona tra le grandi iniziative si salva la festa del mare ma si farà solo la processione. Centro pagina invece fa giardinaggio, perde quattro dita, i maghi del bisturi ricostruiscono la mano e poi il passo laterale dell'ex rettore e l'endorsement a Mastro Vincenzo. Parliamo dell'ex rettore della Politecnica, lungo in Lizza lo scorso inverno per diventare candidato del centro-sinistra, è tornato a Ostra dove iniziò il suo percorso a gennaio, questa volta dice però ha voluto dare una mano all'amico Antonio Mastro Vincenzo, Presidente del Consiglio regionale uscente che comunque ha già detto che si candiderà di nuovo. Il Corriere Adriatico di nuovo per vedere le notizie sui contagi, il bilancio fino a ieri. Intanto si parla delle ultime 24 ore, abbiamo un'altalena di numeri perché l'altro giorno in sole 24 ore si sono registrate 16 persone contagiate, 16 che hanno preso il coronavirus, mentre nella giornata di ieri soltanto due. Dunque cala in maniera drastica il numero di casi di coronavirus riscontrati dal percorso diagnostico regionale così come quello dei tamponi effettuato. Dei nove positivi di Pesero molti venivano dalle vacanze, c'è anche un operatore di RSA, chiuso un locale per tre giorni a Portopotenza, i camerieri lavoravano senza tenere la mascherina. Dunque la situazione come si può notare, si può continuative. Oggi magari ce ne abbiamo due, domani altri dieci, adesso vedremo i risultati anche e se tutto sarà andato bene così come ci auguriamo anche con la notte delle candele, questo grande appuntamento che ha sfidato un po' se vogliamo anche la sorte con questi nove chilometri di spiaggia dove tante persone si sono ritrovate per festeggiare questa notte delle candele. Intanto il resto del Carlino decessi in calo, ecco chi non ce la fa, i ricoverati sono quelli o meglio chi muore ancora di coronavirus e gente che è ricoverata da molto tempo, ricoverata da mesi e sono già persone malate. Parla Pelosi che è ordinario di anestesiologia e dice l'80% dei morti oggi è molto anziano e spesso neppure più positivo. C'è questa intervista nella quale lui dice il virus più debole dopo il lockdown e le azioni di contenimento. Abbiamo un numero giornaliero di casi, la domanda è Professor Pelosi che fase dell'epidemia stiamo vivendo? La risposta è abbiamo un numero giornaliero di casi riscontrati positivi ai test enormemente inferiore rispetto a qualche mese fa, gran parte di questi soggetti sono asintomatici, quelli che necessitano di ricovero ospedaliero in terapia intensiva sono in numero limitato. I decessi si contano sulle dita di una mano, cosa è cambiato? Questa è la domanda. Le misure di lockdown, cioè di chiusura totale e l'igiene, il fatto che ci laviamo le mani spesso, che ce le teniamo igienizzate anche con le soluzioni idro, quelle, i gel, hanno fatto sì che la carica virale anche con testa positiva sia nettamente inferiore e l'infezione risulta meno aggressiva. Più dell'80% delle morti segnalate si riferisce a persone molto anziane con una sovra posizione di più patologie degenti da due o tre mesi, forse nemmeno più positivi al tampone. Perché non ce la fanno a recuperare? E lui risponde, il dottore, scontano le conseguenze di un danno irreversibile che può essersi prodotto a livello dei polmoni. Ma questa infezione colpisce anche cuore, reni e sistema nervoso centrale. Perché il covid non è solo polmonito, può scatenare una massiccia infiammazione, una trombosi diffusa e sconvolge la coagulazione. Quindi abbiamo uno strascico legato al picco dei mesi scorsi. Quando parliamo dei morti da coronavirus è un po' come guardare le galassie con il telescopio. Registriamo eventi che si sono prodotti in un recente passato. L'età media dei ricoverati in terapia intensiva è sui 64 anni, ma i decessi, abbiamo visto, crescono a livello esponenziale con l'età, diciamo dai 70 anni in su. Sotto i 35 anni gli esiti in fausti, cioè le morti sono rare. Come vi state attrezzando per i prossimi mesi? Attraverso un monitoraggio dei ricoveri. Se vediamo che crescono i numeri in terapia intensiva, quello sarà il momento di agire. Però ecco, come dice appunto e come diciamo ormai da diverse settimane, certo l'attenzione deve essere come al solito molto molto alta, ma comunque in questo momento la struttura sta funzionando, tutto sta funzionando. Per esempio ecco l'articolo sul resto del Carlino a pagina 4, ci sono 70 persone convocate al Drive Point, quindi probabilmente al Colman di Rosciano, e sono 70 persone che sono rientrate un po' dalle vacanze, chi l'ha fatta in Croazia, chi l'ha fatta in Grecia. Ecco, sono tutte zone molto calde, ancora dove il virus circola molto e quindi bisognerebbe evitare di andare in questi posti. E quindi queste persone sono state convocate. Dopo rientre dalla Croazia, che hanno fatto emergere sei positivi, l'Asur ha rintracciato tutti i contatti e domani li sottoparrà il test. Chiaramente non tutte le 70 persone sono state in Croazia o in Grecia. Sono i contatti che hanno avuto quelle due o tre persone che sono state in Croazia appunto o comunque nella zona dell'est che ritornando hanno poi avuto vita sociale, relazioni sociali prima di avere i sintomi del coronavirus. E dunque, come lo scorso aprile, ai tempi della prima ondata, la struttura di Rosciano sarà utilizzata, quindi il Colman, nella giornata di domani per accogliere una settantina di potenziali contagiati che sono stati individuati tramite l'indagine epidemiologica svolta all'indomani del rientro dalla Croazia di alcuni ragazzi in vacanza, poi risultati infetti e sulla base delle segnalazioni dei contatti stretti evidenziati da altri pazienti risultati positivi. Poi, come al solito, arrivano i messaggi anche da voi, da casa, e dite insomma, essere contagiato non vuol dire niente, nel senso che molti ci scrivono, bisogna vedere quante poi si ammalano, perché essere positivo vuol dire tutto e niente. Sì, fino a un certo punto, comunque, ecco, chiaramente quello che poi conta è vedere l'evolversi della positività, se uno poi si ammala, va comunque a dei sintomi, va in ospedale, oppure uno rimane a casa tranquillo e si fa la sua quarantena. Mentre da inizio giugno il paese, al di là dell'Adriatico, ha normalizzato tutte le attività sociali e commerciali, quindi parliamo della Croazia, anche per aiutare il turismo, che in Croazia è un po' il motore dell'economia, come tra l'altro lo è anche per l'Italia. Comunque, questa è la situazione e, come dire, dobbiamo essere, lo ripetiamo con una volta, fino alla nausea, dobbiamo stare attenti. Estate Covid, strage degli eventi, si salva solo la festa del mare a metà, questa è la pagina di Ancona del Corriere Adriatico, addio alle notti bianche, al primo piano festival, si punta su Cinetura e Posatora, in porto solo la processione. Intanto ieri invece c'è stata la famosa Notte delle Candele, nove chilometri di spiaggia, da Gabice fino a metà strada tra Fano e Pesaro, insomma sotto monte, e c'è stata questa importante manifestazione che il Comune ha deciso di riproporre per mantenere viva comunque la tradizione. Oggi il resto del Calino dedica due pagine a questo evento. La bagnina, le regole erano chiare, ma la pratica è tutta un'altra cosa. Dopo una certa ora, a mano a mano che ci si allontanava dalla palla, le prescrizioni diventavano un ricordo. E controlli? Impossibile. Vigilare su nove chilometri di litorale. Ma come era prevedibile, ammette una bagnina. Noi abbiamo avvisato da giorni che si sarebbero dovute rispettare le regole, ma lo sapevamo che sarebbe stato impossibile. Se si voleva davvero evitare assembramenti, questa festa non si doveva fare. Ma anche questo non andava bene. Questi ragazzi sono stati bravi per mesi. Ora è anche giusto ritornare a vivere. E comunque non sono solo i giovani ad essere indisciplinati, ma anche gli adulti. I controlli ci sono stati? Scrive domanda Elisabetta Rossi. La risposta? Da noi non è venuto nessuno, continua. Ma è normale che sia così. Ma come si fa a controllare così tanta gente sparsa in nove chilometri di litorale? Già, come si fa? C'è chi si è ritrovato a tavola in riva al mare solo con la propria famiglia. Quindi diciamo, tra virgolette, al sicuro. Noi invece siamo tutti fratelli, qualcuno ha detto scherzando, tra i ragazzi di una nutrita comitiva stretta attorno ad un tavolo. A presidiare sulla festa c'erano invece gli agenti della Polizia Municipale di Pesero. Dal mare la capitenere di Porto, che chiaramente non stava lì a controllare le distanze, ma soltanto a vedere se si accendevano qualche falò, qualche fuoco o c'era qualche situazione di pericolo. Soddisfatto invece il sindaco Matteo Ricci che di bianco vestito al tramonto si aggirava sulla spiaggia di Baia Flaminia con mascherina alle orecchie, pronto a coprirsi la bocca quando si avvicinava a scambiare opinioni con la gente. E c'è chi si è ritrovato appunto a cenare solo con la sua famiglia, proprio per evitare di spiacevoli sorprese. Meno tavolate, questa è la seconda pagina, tanti con la gluppa e alla Baia uno spettacolo da sogno. Quando scocca l'ora del crepuscolo, molti seduti a terra sui tele a godersi il paesaggio illuminato e il dj crea l'atmosfera. Il dj è Luigi Pansino, li faccio ballare? Lui dice certo, se hanno riaperto le discoteche possiamo farlo anche qui. Intanto alcune fotografie, vedete un selfie, Rebecca e Filippo Davontecchio, un selfie al tramonto, poi un gruppo di ragazzi qui sotto che si mangia una pizza, anche loro tutti vestiti di bianco e poi ecco una tavolata, una tavolata di persone, qualcuno con la mescherina, qualcuno no, insomma una tavolata dove appunto ieri si è cenato in riva al mare. E poi c'erano tante auto ammassate fin sulla panoramica per guardare dall'alto lo spettacolo luccicante del mare. Tutt'altra atmosfera invece, ieri pomeriggio in un quartiere di Fano, stiamo parlando del quartiere di Gimarra dove un gruppo di residenti, aiutato anche da qualche ambientalista, ha voluto manifestare il proprio dissenso verso una decisione che è quella della giunta del comune di Fano di allungare, prolungare gli interquartieri passando in mezzo alle colline. Capite voi, insomma, questa strada che dovrà collegare un punto della città di Fano, passare per tutte le colline fino a sbucare sulla strada alle 16 e sta facendo passare notti insonne a più di una persona. Chi sono queste persone? Sono chiaramente, evidentemente, le persone che abitano in quelle zone, che lì hanno le ville, hanno le loro abitazioni. È stato un successo, dice ad Anna Marchetti del resto del Carlino, uno dei promotori, una promotrice, anzi, Barbara Bellini, che è la moglie di Luciano Benini, poi Giovanni Dormicchi, che hanno protestato ieri, qui davanti alla chiesa del Carmine, contro la variante Gimarra e dove appunto tanti cittadini, i vari quartieri, dalla Trave alla Paleotta alla Zile Gimarra, si sono ritrovati per dire no a questa scelta dell'amministrazione comunale. Tra l'altro oggi pomeriggio ci sarà anche un consiglio comunale che servirà per approvare questa decisione della Giunta. Sono tre chilometri e mezzo di asfalto che attraverseranno con un ponte sul torrente Arzilla, tre rotatorie e due gallerie, una nella proprietà appunto di Benini, le colline della città in una zona con vincolo paesaggistico e avranno secondo i cittadini un impatto ambientale notevole, in particolare sull'habitat del torrente Arzilla. Tra le varie persone che c'erano ieri a manifestare c'era anche l'ex presidente del Fano Calcio, l'imprenditore Claudio Gabellini che dice tuteliamo oltre alle nostre proprietà anche il patrimonio pubblico. Allora che cosa succederà da qui in avanti? Intanto pare che vogliano mettere su dei teli rossi contro questo scempio del Carmine della Gimarra, così come è stato fatto sulla zona Sassonia Sud a Metauriglia. Lì invece i cittadini protestavano e chiedevano al Comune di prendere provvedimenti per quanto riguarda il traffico veicolare molto pesante e anche a volte indisciplinato su una strada a grande percorrenza come appunto la Statale 16 a Metauriglia. Qui faranno la stessa cosa. A fianco ai cittadini e il pomeriggio c'era anche il parroco di Gimarra che ha detto basta. Il parroco di Gimarra dice sono presente in questo quartiere da più di 40 anni, dice Don Gianni, ed è stato sempre massacrato. Non contenti della petizione online, perché c'è stata anche una petizione online che qualcuno, Giovanni Dormicchi, ha messo su un sito che ha già raccolto 500 firme, ma non contenti di questa petizione. su internet i cittadini fanesi faranno partire una raccolta di firme cartacea e tutti sono stati invitati da ieri sera ad oggi pomeriggio ad inviare mail a consiglieri comunali e assessori contro la variante di Gimarra. Perché appunto oggi pomeriggio c'è questo appuntamento alle ore 18, in questa inusuale seduta ferragostana del Consiglio Comunale, questo voto in Consiglio. Sotto c'è l'articolo che riguarda otto amministratori comunali che parlano di scelta tragica e dicono, invitano il Comune a fermarsi. Lettera aperta agli amministratori contro la decisione di investire 20 milioni di euro sull'infrastruttura alle porte della città. Corrifano? No a San Bartolomeo sì, sono due eventi, uno è sportivo, l'altro invece riguarda tutti quanti, uno è la Corrifano, entre l'altra è la Fiera di San Bartolomeo. Il Corriere Adriatico titola, annullata la tradizionale corsa di settembre sulle colline di Gimarra, Paoloni del CSI dice il distanziamento sarebbe stato impossibile, confermate invece la Fiera di Agosto, previsti punti igienizzanti, cartelli informativi e l'obbligo della mascherina. Mentre sempre sul Corriere Adriatico anche oggi due pagine sulle incompiute, sulle marche arretrate, le marche che non si collegano da nessuna parte, sembrano quasi isolate dal resto dell'Italia, in particolare con la capitale, con Roma, ma anche chi vuole andare a Milano sa benissimo che per avere un treno veloce deve andare almeno a Bologna o Rimini per trovare un Freccia Rossa. Per il resto abbiamo ferrovie, abbiamo strade che sono da veramente medioevo, da terzo mondo. E allora le bugie oggi dei presidenti ANAS mentre in Toscana e al nord le strade andavano avanti. Trent'anni di programmazione sconfessata dai fatti per le Marche Cenerentola. Da Pozzi a Ciucci fino a Darmani, la Fano Grosseto è sempre stata una priorità. La Guinza addirittura, la Galleria doveva essere un'opera d'arte, altrove però i soldi c'erano e nelle Marche proseguiva solo la Quadrilatero. E qua potete, se volete, farvi del male, sbizzarrirvi e farvi venire un po' di nervoso perché se ne leggono e se ne sentono davvero tante. Insomma sulla viabilità, sulla viabilità in tutte le situazioni sia a livello regionale che a livello cittadino si è sempre fatta poca la strategia e molte invece cose a persona purtroppo. Tutti sono stati così, non ce n'è uno più bravo dell'altro, uno peggio dell'altro. Sono tutti stati così purtroppo. Fiera di San Nicola sì, con riserva. Se aumentano i contagi salterà. Qui invece siamo a Pesaro. La Fiera di San Nicola è in forse come abbiamo visto. L'amministrazione sta lavorando per farla quattro giorni invece di tre, dal 10 al 13. Così affluenze diluite. Franco Ellucci dice stiamo anche pensando ad autorizzare le bancarelle su un solo lato della strada. Certamente basta vedere questa fotografia. Qui siamo all'anno scorso, tutti senza mascherine, tutti belli vicini. Chiaro, quest'anno le cose non devono andare così, ma c'è chi rispetta e c'è chi non rispetta. Niente intanto fuochi d'artificio, animazione, niente animazione per i più piccoli. Altoparlanti invece per far indossare le mascherine. Non escludiamo, dice l'assessore, neanche un ingresso contingentato. Aspes vaglierà tutte le soluzioni possibili anti-Covid. Andiamo a Dorciano. Strada Franò nel 2012 è stata riaperta soltanto adesso. Beh, insomma, meglio tardi che mai. 8 anni. L'annuncio del sindaco, un investimento di 85 mila euro e tanti altri cantieri in partenza per oltre un milione di euro. A Fano invece una moto con il babbo e il figlioletto sopra. Ci si scontra con un'auto. Le loro condizioni sarebbero gravi. È successo ieri intorno alle 19.15 in Via della Giustizia. A Senigallia giardinaggio shock. Perde quattro dita. Prodigio invece all'ospedale perché queste quattro dita sono riuscite a riattaccarle alla mano. Un'operazione di 12 ore nel reparto di microchirurgia della mano diretta dal dottor Riccio. Operatori specialisti si sono prodigati. Li ringrazio, dice questa persona alla quale sono partite quattro dita. Insomma, alla fine gliel'hanno riattaccate. Addio invece a padre Frigerio era un grande monaco. Lo storico priore dei cistercensi dell'abbazia di Fiastra aveva 71 anni. Ricordo dell'avvocato Elena Pasquali. Aveva una spiritualità unica. Oggi il funerale nel Duomo di Fermo. Poi la salma sarà trasferita nel cimitero dell'abbazia. A Urbino, festa del Duca. Il virus non ferma la storia. L'edizione 2020 fino a venerdì con tanti spettacoli rivisitati per le norme di sicurezza. In ingresso gratuito grazie agli sponsor. L'omaggio di Mangani a Raffaello Sanzio. Questa sera la prima esecuzione della Sinfonia numero 1. Da Vallefoglia e da Urbino due pagine. Ve le facciamo vedere insieme. Stop a Vallefoglia. Schiamazze e rumori molesti. Le multe anti-Bronx fino a 500 euro. Pugno duro del sindaco Ucchielli. I problemi principali sono a Montecchio. Nicolini del centrodestra dice meglio tardi che mai. Intanto domani, vedete di taglio basso qua sotto, domani l'autopsia su Gostoli. Il 52enne dipendente della Montefeltro Foraggi che è morto sul lavoro. Sono stati fatti degli accertamenti voluti dalla Procura. Festa del Duca per Raffaello. Prime nazionali e nove eventi esclusivi. Oggi l'attesa inaugurazione della manifestazione che ha ricevuto l'alto riconoscimento del Comitato Nazionale. Nuova veste anche per l'Aita con vista sulla tribuna Oddi. Crespini, presidente Ars. Lavoreremo all'allestimento scenografico di questo gioco. Lo sport, per chiudere, eccolo qua. Il momento oggi tanto atteso dai tifosi e non solo dai tifosi perché alle 10.30 di questa mattina in comune il nuovo proprietario del Fano Calcio, dell'Alma Juventus Fano, svelerà i programmi. Oltre al sindaco ci saranno anche i rappresentanti del tifo Granata. Offidani dunque, il nuovo patron Enrico Fattò Offidani, si presenterà questa mattina alla stampa. Intanto si parte il 17. Questa è la foto dell'allenatore del Fano che ha salvato il Fano qualche settimana fa. Si parte il 17, ma prima ci sono i test, i test sierologici e poi i tamponi da fare. Poi tutti quelli che saranno negativi, tutti quelli che saranno ok, potranno partire. Allora, andiamo a vedere le altre due pagine. Fano, il giorno di Affidani, che qui il resto del Carrino, oggi si presenta ai tifosi, appuntamento stamattina a 10.30, il nuovo proprietario illustrerà il progetto alla presenza del sindaco di Traini e di Bernardini. Sotto, Sport Village, Banca Pesaro, campionate nazionali estivi, sincronetta ridosso delle grandi, Jasmine, Verbena e Zonzini finiscono seste nel duo, ma tutta la squadra dimostra grandi qualità tecniche. Mentre la Vis è arrivata la mezzala, ieri ha fermato Gelonese, il centrocampista 25enne viene da tre stagioni nella Samba, il DS Crespini dice ci darà sostanza e qualità e sarà uno dei nostri centrali. Infine la VL, la VL che aggrega Filloi, sarà più facile convincerlo, il play argentino è arrivato a sorpresa in città, oggi test sierologico e poi tamponi e se il risponso sarà negativo potrà salire a Borgo Pace e raggiungere il resto della squadra. Oggi sbarcano gli USA. Repesia ha chiesto di allargare la pattuglia dei preparatori, quelli atletici e fisioterapisti a servizio della truppa. E questa era l'ultima notizia della nostra rassegna stampa. Grazie per averci seguito, l'informazione torna stasera alle 20.30 con il telegiornale Occhio e la notizia. E come sempre per le vostre segnalazioni avete visto più di una volta il nostro numero di telefono. Arrivederci.